dopo molto anni di assenza siamo felice di essere tornati di nuovo in italia e di riprendere la cooperazione con i nostri amici liberali qui nel bel paese ci impegniamo a contribuire alle soluzioni che riguardano la zona dell'europa del sud e evidenziando le possibilità e i punti di forza di questi paesi sempre più importanti per il processo della integrazione europea il nostro obiettivo è quello di sostenere i partiti le organizzazioni e le politiche liberali qui in italia e noi come fondazione vorremmo offrire una piattaforma per il dialogo in un momento in una situazione molto difficile per l'europa e anche molto drammatica dalla crisi che sta andando avanti in russia e l'ucraina e su cui non vedo grandi passi di accordo ha portato moltissimi a finalmente riconoscere che l'europa ha un problema e che la sua assenza di politica estera comune di difesa comune è una liability non è un asset perché sono convinta che solo superando il voto all'unanimità e dando al parlamento europeo una capacità di proposta e non solo di verifica delle direttive che arrivano dalla commissione sia un passo molto molto importante un mio amico belga tempo fa descrisse l'europa come un gigante economico un nano politico e un verme militare non è cambiato molto da allora siamo andati avanti con l'integrazione economica e macro finanziaria ma tutta la parte politica è rimasta indietro né si sbloccherà se noi non agiamo anche sulla sulle istituzioni e sul modo di renderle più efficaci oltre che più democratiche è un periodo diciamo di grande attività diplomatica come avete visto che per ora non ha dato risultati sperati ma non per questo a mio avviso deve essere abbandonata credo che il doppio binario aiutare gli ucraini e sfiancare e indebolire putin è quello che dobbiamo continuare a fare non perché abbiamo nessuna ambizione di regime change questo aspetto agli ucraini quando sarà ma perché riteniamo che questa aggressione gratuita non motivata da niente a un paese che stava trovando la sua strada la democrazia dopo le elezioni è veramente qualcosa di spaventoso proprio paesi che erano più contro gli immigrati dalla polonia lungheria eccetera eccetera mi pare con l'ondata di immigrati che arrivano dall'ucraina abbia avuto il coraggio di decidere di applicare la direttiva 455 per la protezione umanitaria ma i numeri sono o appaiono talmente enormi che credo che uno dei problemi che avremo è come i singoli stati membri gestiranno l'integrazione di questi persone e visto che non c'è una politica comune questa crisi si somma a una crisi quasi sparita dai media che il mediterraneo da dove continuano ad arrivare centinaia e centinaia di persone ma non ci facciamo neanche più caso e spero che questa nuova crisi oltre che aiutarci a fare un passo avanti significa che possa significare che anche i paesi più resistenti quelli del nord Europa si rendano conto che ci sono temi che o si affrontano in comune oppure non andiamo da nessuna parte nel mio paese oggi tutti sono diventati europeisti c'è chi vuole l'Europa della salute c'è chi vuole l'Europa dell'energia eccetera eccetera ma dobbiamo renderci conto che se non cambiamo la governance dell'Unione Europea tutto questo non sarà possibile per cui grazie mille di aver organizzato questo evento credo che questa iniziativa sia utile e nel tempo giusto in questi giorni mi capita di parlare con moltissime donne ucraine che sono diciamo quelle più numerose che sono tra noi si sono rifugiate qui e sono in molte delle nostre anche case e c'è invariabilmente una frase con cui iniziano a parlare in inglese o nel poco italiano che conoscono oppure in ucraino dicono tutte chi se lo sarebbe mai immaginato che nel 2022 avremmo affrontato una cosa del genere mi colpisce molto questa questa questo stupore nonostante poi siano di fatto in guerra da tanti anni da otto anni però tutte mi rispondono e mi hanno risposto non è vero cioè siamo in guerra da otto anni però un'altra cosa vedere le bombe però un'altra cosa vedere i bambini che piangono e sono loro i primi a spegnere tutte le luci del di casa all'imbrunire per evitare di essere visualizzati e stavo diciamo preparandomi un pochino a questo momento vedevo diciamo super citata questa frase di jean monnet del 1953 è richiamata da tutti e uno degli architetti dell'europa dell'unione europea disse l'europa si farà si farà attraverso molte crisi e sarà il risultato e il risultato di di come riusciremo ad attrezzare le soluzioni a queste crisi a questi bisogni a queste domande se determinate cose in europa non si possono fare con tutti i paesi membri si facciano con alcuni ma fermarsi non è un'opzione lo si vede adesso tu citavi giustamente la frase di monnet sulle crisi il covid ha dato una prima spinta cambiando la prospettiva sugli aiuti finanziari e sulla politica fiscale comune in un certo senso non del tutto ma si è arrivati comunque alle risorse finanziarie in comune adesso la guerra sta portando tutti a parlare di esercito in comune parlare di esercito senza parlare di politica comune è un non senso di politica estera comune è un non senso assoluto perché avere una forza militare unica come quella che è stata ipotizzata adesso come quella che era prevista dalla comunità europea di difesa senza avere una politica estera unica non ha nessun senso perché ci si incarterebbe regolarmente e non riguarda solo la guerra e chiudo velocemente pensiamo all'energia il tema dell'energia è un tema di politica estera non è un tema economico nel senso che ci si deve relazionare con gli stati uniti per chiedere un supporto si dovrebbe magari parlavo prima con con enzo camporini pensare al caso della libia dove per le diciamo per i disaccordi eufemisticamente tra italiani e francesi comandano gli egiziani cioè la politica estera oggi è tutto è sanità è energia ed è ovviamente strategia anche militare serve superare i veti io sono forse meno ottimista di Emma io penso che si dovrà arrivare anche dal punto di vista militare a due velocità perché non credo che si supereranno neanche i temi dello stato di diritto e della democrazia liberale che oggi ancora esistono e che non vanno trascurati perché chiudo l'unica cosa che io non credo sia giusta è in nome dei blocchi che sembra che stiano rinascendo russi e cina da una parte e occidente dall'altra cercare di inglobare paesi senza requisiti rigidi sullo stato di diritto io penso che il percorso di avvicinamento dell'ucraina ci debba essere ci possa essere ma non ci si possa dimenticare cosa è successo con la polonia altrimenti rischiamo di importare quelle che sono degenerazioni rispetto alla democrazia liberale ereditate dall'unione sovietica peraltro ma non ancora risolte mi piacerebbe sapere da lei che tipo di perimetro dovrebbe avere questa politica di difesa io nel 1999 ho avuto la fortuna di essere uno dei quattro coautori di lo Helsinki Allain Goal che è stato il primo tentativo di fare qualche cosa di concreto a partire dalle istituzioni e a partire dalle capacità operative da mettere in campo purtroppo come ha già detto Andrea il problema è che è mancato la spinta della politica comune tutto è politica attenzione ma bisogna distinguere tra gli scopi e i mezzi lo scopo è la politica vera e propria e identificare degli scopi comuni degli obiettivi comuni è l'essenza dell'europeismo ed è lo sforzo in cui tutti quanti dobbiamo impegnarci per verificare nel quadro europeo quali paesi sono in grado di esprimere delle esigenze che possano essere convergenti dobbiamo prendere atto che ci sono delle differenze allora la mia proposta è che ciascun paese insieme agli altri verifichi quali sono le aree di coincidenza se non è la politica estera globale vediamo se in ambito regionale possiamo trovare degli scopi comuni da perseguire insieme che non devono non devono comprendere il voto all'unanimità e devono essere basate sul voto a maggioranza maggioranza qualificata poi le formule le troviamo per carità ma questo è uno dei difetti costitutivi che impedisce che impediscono di fare progressi puntiamo alla politica comune alla politica estera comune ripeto con un perimetro più piccolo di quel dei 27 ma solo se riusciamo in questo scopo in questo intento solo a questo punto potremo integrare le nostre forze questo conflitto anche quando si smetterà di sparare rimarrà lì sarà uno dei tanti conflitti congelati che noi ci troviamo in europa e ne abbiamo abbiamo la moldavia abbiamo la georgia adesso abbiamo l'ucraina al donbass dovremo abbiamo il conflitto tra azzeri e armeni questo per dire che il futuro avrà una enorme necessità di un europa capace di intervenire e di gestire la propria sicurezza di questo che il punto la regione più ricca la regione più avanzata la regione con dove i diritti civili sono rispettati più che in qualsiasi altra area del mondo e che si trova a dover subire le decisioni prese a washington a pechino o a mosca sulla base di quello che il generale camporini ha detto sembrerebbe tornare l'odioso dilemma di scegliere tra il burro e i cannoni no quel dilemma che eisenhower tanti tanti decenni fa pose e pensavamo una volta per tutte che non dovessimo più tornare a scegliere a scegliere tra due come dire tra due voci ugualmente a quanto pare necessarie ecco quali trasformazioni intravede quali trasformazioni si profilano a livello degli stati membri e come cambierà quindi anche la politica di difesa e sicurezza per tutta l'unione europea stiamo attraversando un momento critico delle relazioni internazionali che di sicuro porterà ad un drastico cambiamento non soltanto in seno all'unione europea ma anche dell'ordine globale eh di come anche comunque l'unione europea si percepisce nel mondo di come vede il suo il suo vicinato e di conseguenza anche la sua sicurezza e difesa e il il suo ruolo internazionale eh l'ulteriore invasione della Russia in Ucraina in Ucraina ha di fatti portato secondo me un momento di riflessione che è di portata epocale almeno questo quello che si vive qui a Bruxelles poiché non è stato un generico shock eh uno di quelle è una di quelle crisi cicliche che che regolarmente impattano l'unione europea lei poco fa eh citava già Monet eh ma è sembrato proprio un un vero e proprio terremoto che ha scosso le 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 stesse fondamenta istituzionali la le ideologia eh la le politiche dell'unione eh dei suoi stati membri anche della della popolazione in generale vorrei e quindi mi rilaccio anche alle trasformazioni che che lei ha sottolineato eh dire che in effetti eh una parte sostanziale di questo cambiamento era eh già avvenuta negli anni negli ultimi anni a causa delle numerose crisi che interne ed esterne che hanno eh portato a rimettere in discussione la natura stessa della sicurezza e difesa europea e di rimando anche a quella neuroatlantica. Non a caso già da tempo appunto si sentiva parlare di autonomia strategica di un'unione più geopolitica lo diceva la ehm Ursula von der Leyen un una un'unione europea che doveva apprendere la la eh il linguaggio del potere per difendere i suoi valori i suoi interessi i suoi cittadini e che si era dotata di alcuni strumenti per migliorare la propria eh sicurezza difesa alcuni di questi strumenti che sono attualmente anche eh stati utilizzati nel nell'attuale conflitto faceva per lo più leva ad un'unione europea che utilizzava la sua eh dimensione economica eh più che altro che la sua dimensione di difesa di difesa e sicurezza. Il ventiquattro febbraio ha portato brutalmente alla luce la questione della difesa europea della sua capacità di agire in situazioni di di crisi. Non so quanto questo durerà ma in pochi giorni si è visto un cambiamento radicale all'interno eh dei stessi paesi membri che hanno beneficiato anche di un'opinione pubblica eh che si resa conto di cosa può succedere se si rimane inattivi, se se si è spettatori esterni agli eventi. È un esempio da manuale che viene spesso citato ultimamente quello della 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 Germania che in poco meno di trenta di trenta minuti il cancelliere Scholz ha radicalmente cambiato la politica estratedesca degli ultimi anni eh se non decenni della Germania ma anche eh di altri di altri paesi. Dobbiamo spendere più in difesa eh per essere autonomi ma anche anche meglio evitando evitando le le classiche duplicazioni per cui eh spesso si si fa riferimento all'interno del mercato della difesa dell'industria della difesa europeo e non è importante non tanto ritrovare l'ambizione perché questa secondo me è stata trovata eh ma di avere una vera e propria visione di un progetto concreto di medio e lungo termine perché ovviamente gli obiettivi strategici di sono diversi non puoi avere un esercito comune con obiettivi che sono completamente diversi quindi vedendo ehm lo strategic compass come si diceva si fa si sottolinea l'importanza dell'unanimità e si apre con l'articolo 44 a quella che probabilmente diventerà la configurazione della politica estera europea e delle missioni civili e militari ovvero ad una ad una eh Europa a due velocità geometrie variabili con con raggruppamenti di paesi che di volenterosi ecco di gruppi di volenterosi che decidono di intervenire in in alcune situazioni. Qualche giorno fa tu eh sottolineavi eh citando Draghi che citava il presidente del Parlamento europeo Michel parliamo di autonomia strategica dell'Europa e eh che cosa vuol dire autonomia strategica dell'Europa? Significa avere una capacità propria in quanto Europa e non in quanto singoli stati europei? Che scelte comporta? De Gasperi era un democristiano, un grande europeista che resta un punto di riferimento anche per tutti noi liberal democratici nella sua visione eh di eh europeismo. Lì avevano un'idea di eh di quella che oggi chiamiamo l'autonomia strategica. Magari Macron preferisce la sovranità, sovranità strategica eh cioè del fatto che eh l'Europa abbia una padronanza del proprio destino eh multidimensionale. Noi invece oggi eh ho ascoltato la coda dell'intervento del generale Camporini eh noi oggi abbiamo eh sperimentiamo l'assenza di una eh capacità autonoma e quindi di un'autonomia eh in termini strategiche strategici sul fronte non solo ma certamente sul fronte della difesa e della politica estera che deve precedere una politica comune di difesa eh come ci spiegano Camporini e Emma Bonino eh in questo periodo. L'autonomia strategica significa appunto è una è una strategia multidimensionale. Prima della guerra avevamo ben chiaro che ci fosse un tema di autonomia strategica in termini di materie prime, di semiconduttori da per i quali noi dipendiamo totalmente da da fuori. Le materie prime non le puoi inventare, la capacità di produrre semiconduttori la puoi aumentare che è quello che si sta cercando eh che si sta cercando di fare. L'autonomia strategica significa avere una strategia energetica cosa che l'Europa non ha mai avuto in particolare a causa di due grandi paesi Germania e eh Italia eh che hanno scelto perché è stata una scelta negli ultimi vent'anni di aumentare la propria dipendenza per quel che riguarda le fonti di nitrocarburi dal gas e di aumentare la dipendenza dal gas russo. Ecco questo è l'opposto dell'autonomia strategica. Abbiamo consegnato un pezzo vitale della vita dell'Europa, dell'economia, della società eh a a Putin. Noi oggi ci ritroviamo come Europa eh e spero che questo scossone serva. Di fronte a questo noi ci siamo trovati eh a eh sul fronte della sicurezza ci siamo di nuovo trovati senza autonomia dovendo far riferimento eh alla alla Nato e quindi in ultima istanza dovendo far riferimento agli Stati Uniti. Perché ci sono una serie di paesi europei che stanno con un piede dentro l'Unione Europea e con l'altro fuori perché hanno un tema di sicurezza i Baltici, Polonia, Romania, hanno un tema di sicurezza e oggi l'Europa non dà alcuna garanzia dal punto di vista della sicurezza. Credo che dobbiamo avvertire la necessità di un'autonomia strategica che abbia al proprio interno anche una autonoma capacità di sicurezza e un'autonoma politica estera. Il tema del voto all'unanimità drammaticamente oggi si pone in un modo ancora più crudo di come lo pensavamo noi diciamo federalisti fino a dieci anni fa. Fino a dieci anni fa dicevamo caspita con l'unanimità non riusciamo mai arrivare a prendere la decisione. Oggi vale il contrario. Con l'unanimità basta che uno si faccia amico e non faccio nomi e cognomi incrocio le dita per il prossimo fine settimana di voto in Europa. Basta che uno si faccia amico uno dei 27 e qualsiasi decisione verrebbe paralizzata o verrebbe sottoposta a negoziati infiniti. Quindi la fine del voto a maggioranza ormai è un tema di sicurezza europea. Non è più solo il fatto che non riusciamo a decidere, che è una procedura disfunzionale. È un rischio strategico ormai. Questo è un momento straordinario, è un momento storico. Siamo cresciuti noi europeisti della mia generazione con la retorica che è nelle crisi che l'Europa fa i passi avanti. Per noi passo avanti dovevamo farlo vent'anni fa o trent'anni fa anche sul sistema di difesa comune. Va bene così. Io mi auguro che questa crisi ci porti lì. Perché se non ci porta lì lo dice sempre Emma, fermi non si può stare. La storia ci dimostra che non possiamo stare fermi. La conferenza sul futuro dell'Europa, che era un esercizio, io ci partecipo per conto del governo italiano, che sembrava destinato a produrre una roba al ribasso e rimanere lì, io continuo a pensare che oggi sia un'occasione vera. Perché nei panel dei cittadini, che sono cittadini selezionati, non è un sondaggio, non è il campione, ma quello ti dicono. Il ruolo nel mondo dell'Europa, anche perché anche noi chiamiamo gli Stati Uniti, vediamo quello che succede lì e dobbiamo capire che non possiamo, lo disse anche la Merkel, prendiamo il nostro destino nelle nostre mani e poi non è successo. Dobbiamo capire che la nostra libertà, la liberal democrazia, dobbiamo cominciare a pensare che la dobbiamo difendere anche da soli, poi più siamo, meglio stiamo, ma dobbiamo essere pronti a farlo da soli e quindi dobbiamo ragionare in termini di potenza che abbia una propria autonomia strategica. Anna Maria Corazza Bild è una parlamentare europea eletta in Svezia e sono particolarmente orgogliosa nel presentarti, Anna Maria, perché mi dicevi che sei nella blacklist di Putin dal 2015? Mi preoccupa anche perché ci sarà da riscrivere completamente la nostra politica estera, sarà tutto diverso e quindi noi dobbiamo unire le forze perché ce n'è bisogno di forze liberali e pro-europee. Questa guerra mi è molto vicina perché il popolo ucraino sta lottando per la nostra libertà. Loro sono al fronte della guerra per i nostri diritti civili, cioè l'articolo 2 del trattato di Lisbona, in questo momento lo stanno vivendo loro più di noi. Io sono stata in Ucraina dall'inizio degli anni 2000, a Maidan, ho fatto l'osservatore delle elezioni dappertutto, sono stata a Kharkiv, i rifugiati c'erano nel 2014, nel 2015, nel 2016, nel 2017, nel 2018, nel 2019, nel 2020, nel 2021. Non sono arrivati nel 2022, c'erano le mamme che piangevano i loro figli. La guerra c'era, solo che in Italia non l'abbiamo vista, cioè non l'hanno vista, perché alcuni di noi l'hanno vista. Quindi è molto importante capire il percorso che ha fatto il popolo ucraino e che sta facendo per noi. Putin si fermerà quando lo fermeremo. Io adesso sono stata in Polonia due giorni. I polacchi, i poveretti, stanno facendo un lavoro fazzesco, soprattutto le autorità locali, volontari, le ONG, c'è tutto da imparare, da ringraziarli, da ammirarli, ma non ce la fanno. Cioè loro adesso stanno registrando la frontiera, uno sì, uno no, tutti in coda, non ci sono i bagni, non c'è l'acqua. È chiaro che non riescono a registrarli tutti, non riescono a farli entrare nel sistema Schengen Information System, le date banche europee, il sistema Lisa, l'Eurodac. Allora è ovvio che quello di cui hanno bisogno è Frontex, cioè gli hotspot in cui poi tutti gli altri possono lavorare, Europol può verificare, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto una riunione con il vice ministro degli interni polacco, io gli ho proprio fatto la domanda in maniera chiara, non vogliono Frontex. Cioè lui mi ha risposto, there is no need for us to have Frontex, pure indisposto. Frontex ce l'hanno loro per gestire altre cose, cioè la frontiera con la Bela Russia, dove ci sono altri problemi, adesso non voglio dilungarmi, loro non vogliono che noi gli aiutiamo a fare il controllo delle frontiere. Allora come funziona che comunque deve essere il governo che chiede a Frontex di attivarlo, non è che noi possiamo mandare Frontex, perché il controllo delle frontiere è una storia di tensione. Ma perché vi sto facendo tutto questo ragionamento? Perché arriva al nostro punto, allora noi gli abbiamo chiesto che cosa volete e l'abbiamo chiesto dieci altri ministri, i soldi. Allora noi non possiamo continuare con questa storia che l'Europa esiste per essere la vacca da mungere per i soldi, però non venite qui a vedere cosa facciamo, lì gestiamo noi. Ma non esiste, perché quando tu entri in Polonia, sei entrato in Italia, finché c'è un governo che è completamente anti-europeo, che sappiamo tutto quello che sappiamo sulla Polonia e compagnia, che in questo momento ha un ruolo chiave. L'Europa comunque è una grande potenza economica, io sono fierissima che l'Europa sia la più grande potenza economica, il mercato integrato al mondo, siamo la più grande forza commerciale al mondo, siamo soprattutto una superpotenza di diritti dell'uomo, una superpotenza di libertà civili, però non ci si può limitare a dire, perché tutti questi paesi adesso che hanno la frontiera con l'ex Unione Sovietica che avevano parte dell'Unione Sovietica, in questo momento vogliono i soldi europei e le garanzie americane. Tu non li puoi, you cannot blame them. Tutto quello che facciamo come difesa comune, concludo con questo Ilaria, come idea di esercito comune eccetera, deve essere assolutamente complementare alla Nato, non deve duplicare la Nato e deve partire dal presupposto che non siamo e non saremo nel prossimo futuro indipendenti dagli Stati Uniti per la difesa e la sicurezza dell'Europa. Il fatto di aumentare la nostra difesa comune, la nostra polizia di sicurezza comune, questi embrioni di esercito con la Rapid React Force di 5.000 uomini, il core groups eccetera eccetera, sono modi di contare di più, di negoziare di più alla pari, di avere più credibilità, di essere seduti al tavolo ma non di essere indipendenti dagli americani. Slavo Ucraini. Grazie. 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 Grazie.